ciao veli miei benvenuti all'interno di questo nuovo e fantastico video di brawl stars oggi vi presento una cosa molto particolare perché si parla l'avete capito bene come avete letto dal titolo di reazioni gratuite ci sono dei regali gratis che abbiamo all'interno del negozio che potete andare a riscuotere vi ripeto tutti per un periodo di tempo limitato quindi guardate questo video prima che sia troppo tardi detto questo io come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanella perché siamo sempre attivi continuiamo nel nostro percorso di crescita qua su youtube allo stesso tempo lo continuiamo parallelamente su tiktok instagram e facebook non so se avete presente che sono anche su quei social li trovate tutti i link utili qua sotto in descrizione inoltre vi chiedo nella sezione commenti di questo video di scrivermi quelle e quelli che sono le vostre idee per video futuri che secondo voi potrebbero essere interessanti insomma sono abbastanza curioso anche delle vostre opinioni questo è il mio profilo ufficiale di brawl stars attualmente 29 mila 908 coppe quindi siamo saliti leggermente non è un profilo che è gestito in maniera continuativa in maniera accurata cerco di fare il possibile per divertirmi ma capite bene che poi diventa difficile perché con la scuola è tutto non riesco bene a gestire il tutto il l'interezza del profilo detto questo mi avete detto in tanti vaporai un sacco di stagioni precedenti da andare a riscuotere perché le tieni lì ragazzi non mi serve niente a me andare a riscuotere le ricompense delle stagioni precedenti ve lo ripeto io sono un player principalmente verso altro nel senso che mi diverte fare scalata del profilo ma non è importante attualmente andare a riscuotere ricompense extra che possano essere più o meno importanti direi subito di andare a fare una partita all'interno del nostro profilo ufficiale di foot brawl in modo tale di per poter scalare leggermente un brawler che ritrovo sicuramente molto molto utile in questa mappa può essere un semino che ripeto purtroppo è sceso leggermente quindi è un attimo da sistemare cerchiamo di fare il possibile per non peggiorare la nostra situazione attuale di di semina cerchiamo di vedere un po come come ce la gestiamo come ce la gestiamo al meglio siamo contro degli avversari che sembrano più o meno forti vediamo subito cosa cosa capita vediamo subito cosa capita che sono abbastanza curioso allora con semino in linea di massima la giocata che bisogna fare è quella di un mid range quindi non bisogna andare a trafare con robe particolari cerchiamo semplicemente di non farle porcate insomma io me la gioco in questa maniera qua riesco in maniera abbastanza lineare a crescere a livello di 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 ulti e poi una volta con la ulti è un altro discorso si possono andare a fare molte più giocate molte più interessanti allora qua sicuramente l'obiettivo non prendere troppi danni esattamente l'obiettivo era non prendere troppi danni io ho dovuto bloccare per necessità il muretto e il primo fa un ottimo jump devo dire e devo fare i complimenti soprattutto al al player avversario che se la gioca se le giocate in maniera molto molto intelligente per quanto mi riguarda ma allo stesso tempo vi ripeto è da capire cosa si intende per intelligente io sinceramente preferisco essere leggermente in svantaggio perché attualmente sono in svantaggio con gli avversari che loro sono leggermente più forti ma dall'altra parte però vi ripeto mi reputo abbastanza in forma mi reputo abbastanza in forma nel senso che io un muretto a sandy glielo devo mettere buonissimi danni che fai buonissimo lo surge che riesci a buttare giù l'altra e attenzione attenzione perché io adesso vi faccio un esempio quasi ho fatto degli ottimi colpi devo dire che me la son cavata egregiamente bene sono abbastanza contento di quello che sto tenendo e adesso non lo so va a sapere cosa riuscirò a fare non riesco a far più di tanto qua adesso ci pushano quindi siamo in seria difficoltà perché una volta che arriva il momento del push è il momento peggiore devi mettere assolutamente un muro cercare di prendere meno danni possibili e vedi cosa riesci a fare nel senso che dipende molto poi da come riesce a difenderti in questo caso come avete visto non è stato così semplice anzi ci siamo presi purtroppo delle grandi legnate e quindi questo è quello che passa al convento oggi cerchiamo di non prenderci ulteriori legnate perché sì c'è la possibilità di far gol nel senso che possibilità assolutamente ce n'è e tipo questo passaggio così non era neanche malvagio se non che attualmente siamo fregati nel senso che probabilmente ci faranno anche il gol successivo non importa l'importante è non aver perso in maniera esplosiva vi ripeto ci sono questi regali gratis che potete andare a riscuotere nello shop è una ricompensa particolare nel senso che le emoticon che vengono regalate solitamente non tornano più quindi approfittatene non rimanete con le mani in mano magari con la voglia di fare altro poi vi dimenticate di andare a sbloccarle mi avete detto in tanti vapor perché non riscuoti i crediti per andare avanti nella fama vi ho spiegato quello che penso io riguardo la fama in un video dedicato qua nella playlist di Brawl Stars ormai conta veramente tanti tanti video andatelo a recuperare sostanzialmente non punto tanto sulla fama del mio profilo in quanto reputo più intelligente dato che non ho tanto tempo per giocare da dedicare al gioco tenere da parte quelli che sono le mie ricompense per poi andare a reinvestire tutto appena uscito un nuovo brawler questa è la tecnica che sto utilizzando io mentre mi avete detto che c'è un player che sta provando le 90k io sono abbastanza sbalordito ragazzi questo gioco ormai è totalmente esploso non c'è più un senso non c'è più niente che possa far pensare a qualcosa di intelligente ma attualmente non c'è niente assolutamente niente vi ripeto cerchiamo di fare il possibile questo sembra essere un profilo ritornato di un player che ho saputo aver avuto dei problemi quindi sono contento che sia tornato all'interno di Brawl perché so che ho avuto numerosi problemi quindi dai e niente quindi il brawler che attualmente ho sono questi non sto crescendo più di tanto sto facendo il possibile e cerchiamo con molta lentezza perché ragazzi ci vuole veramente molta lentezza nell'andare a svolgere qualcosa di intelligente io faccio il possibile naturalmente cerco di scalare un po' le maestrie un po' di cosette un po' di cose particolari insomma faccio il possibile vi ripeto ragazzi io come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanella lasciare like se fosse stato di vostro gradimento questo video come al solito un feedback qua sotto nei commenti se invece volete vedere delle cose più particolari siete interessati ad altro vi ricordo che sul mio canale c'è una sezione intera con tutte le playlist tutti i giochi che tratta attualmente sul canale sono tutti denominati nome del gioco più ita fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate perché ce ne sono veramente di tutti i colori da andare a trattare sapete che sto cercando di distribuire Brawl Stars Stumbleguys tutti i giochi assieme e diventa complicato me l'avete fatto notare in tanti ne sono totalmente consapevole però come al solito tutti i giorni alle ore 14 qua sul profilo trovate un video quindi perché non venire quindi passateci ci riverchiamo noi ci vediamo domani alle ore 14 quindi con un nuovo video sono belli miei video Grazie a tutti.